Ciao a tutti, sono Emma e faccio la premissata di elettronica alla Scindola di Locarno. Le tre parole che usa lei per descrivere una premissata sono è un premissato innovativo, sempre in evoluzione e molto variato. Molte persone ritengono che la professione di elettronico sia repetitiva, invariata e monotona. Ma non è così. È una professione molto vasta, composta da diversi campi, in cui ci si può anche specializzare. Le mie attività quotidiane sono lo studio e la realizzazione dei progetti di fabbricazione e testaggio, messo in servizio e manutrazione dei circuiti elettronici. Per l'apprendistato di elettronica è importante che tu sia una persona che sappia tenersi al passo delle tecnologie, informandosi e aggiornandosi frequentemente. Se tu ti identifichi nelle caratteristiche di un encato, saresti un attimo cadinato con l'apprendistato elettronico. Unisciti al nostro team! Unisciti al nostro team!